Come procede? Stai indietro. Ehi, Dick. Ehi. Ma questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Orca... Credi funzioni? Vediamo subito. Ok. Oh, sì. Valla grande. Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Richiamo appena ho fatto. Ok. Forse è difficile da credere, ma io facevo il poliziotto a Farewell. Avevamo armi a volontà. Eravamo addestrati. Ma è stato così veloce. Ben tornato, Dick. Come va a base? Come va? Secondo te è come sia giusta. Faccio il pieno. Sarò qui se hai bisogno. Sai dove trovarmi? Vediamo dove è finito. Tribatto. Venito. 02 il lavoro. Vediamo a famiglia. Venito! Cadill Paese. Qual è il piano? Possiamo recuperare tutte le fertilizzanti che ci serve al ranch di Ironview. Ranch di Ironview? Sì, voglio dire. Penso che a Jesse e i suoi rifugnanti servano ancora. A volte era un campo da gordo. Hanno pure una zona con attrezzi, dosa erba e... Fertilizzanti. Giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Weebozer, chiudo. Ok, Ricky. Sono vicino a Eden Hill. I randaggi sono ancora qui. Ce la farai? Beh, lo scopriremo presto. Dico, chiudo. Ah, merda, giusto. Devo finire di bruciare questi niti. Dick, ci sei? Sì, certo, Ricky. Ci sono. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Mi spiace, solo fosse troppo tardi. No, fermeremo schizzo. Ci riusciremo, vero? Esatto, fermeremo. E devi sapere che mi spiace per tua... Ehi, non l'ho ancora persa. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello rivederti tra voi. Lost Lake ha preso un uomo. Ehi, Ricky. Non è stata colpa sua. Esatto. Di Iron Mike. Intendo... Lui ha fatto... quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Cervi in strada. Ma certe cose non cambiano mai. Dick, ci sei? Schizzo. Oh, hai un bel fegato a chiamarmi. Eccoci, fratello. Ascolta, io ho provato a inventarlo. Su serio. Che sparassero ad Iron Mike. Non volevo che finisse così, fratello. Capitano, il colonnello vuole parlarle immediatamente. Sì, sì, bene. Di che sto arrivando. Capitano, chi hai tradito per meritare una promozione? Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, schizzo. Ok. Volevo che sapessi che quando Curi ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta. È uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker. Stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico, con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cecuta lì dentro potrebbe risolvere un manchio di problema. che si è un po' di più. Sì, c'è un po' di più. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no Sì Vic, ti devo parlare Ricchia, qual è il problema? La milizia Cosa? Dove? Per Buser pianificano un altro attacco e mi ha chiesto di mandarti in avanscoperta Il diavolo, la milizia Ok, ci penso io Grazie a Dio Informo subito Buser, chiudo Grazie a tutti Grazie a tutti Un campo Maledetti ripugnanti Farò una strage Ucciderò i bastardi uno dopo l'altro Fermati Non ho ancora finito con voi Più tardi torno E chiudiamo la questione Cecchino appostato Ah, merda proprio ora Mi vuol dire che hanno scolpito sui nostri muri E farò Arrediamo La sua è la redenzione Ottimo Ottimo Ah, perfetto 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 Avrai nuovi amici Una nuova famiglia Conoscerai la redenzione E così dovrebbe andare Accidenti 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 Questa è la La sua è la Questa è la Questa è la Grazie a tutti. 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 Forza, addiamoci dentro. Ora sai ne... Potrebbe tornare utile. Grazie a tutti. Oh... 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 Porca puttana... La milizia. Oh... 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 devo ricaricare la milizia cazzo guardo in giro tutto tranquillo che diamine che l'accidente è stato controllo andiamo redetti bastardi abbiamo un intruso guardo in giro ma che diamo andiamo 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 and Oh, Diuco. Eccoti qui. Abbiamo appena iniziato! Eh? Ti stai giocando? Questo è l'ultimo.